grazie per l'invito a presentare la nostra esperienza sul ruolo del local delivery di antibiotici e di stimoli in particolare in un protocollo preventivo delle infezioni per i protesiche avanti non ho conflitto di interesse in questa presentazione avanti quali sono le novità sul trattamento delle infezioni per i protesi avanti nel luglio scorso il consensus meeting sulle infezioni muscoloscheletriche ha rimosso la differenza del trattamento tra le infezioni acute postoperatorie e le infezioni acute ematogene e per i prostetiche acute sono quelle infezioni che compaiono entro le quattro settimane dalla comparsa dei sintomi avanti l'infezione per i protesiche acuta è un'emergenza medica appena il paziente è stabile dal punto di vista medico deve essere trattato chirurgicamente c'è stato un consenso del 97 per cento su questo punto avanti è stato ampiamente dimostrato che la semplice sinovietomia e lavaggio sono altamente inefficaci soprattutto nel caso di infezioni stafilococciche avanti una recente meta analisi di fare saddad ha dimostrato un tasso di successo del per cento del daire la sinovietomia e lavaggio definiti daire dalla letteratura anglosassone hanno maggiori possibilità di successo in pazienti con poche comorbidità avanti vi consiglio di scaricare questa applicazione sul vostro telefono si chiama icm fili che vi permetterà di calcolare le probabilità di successo della daire in base alla valutazione preoperatoria dati demografici comorbidità del paziente esami di laboratorio eccetera avanti il trattamento delle infezioni per protesi che nella mia istituzione a stanford si riduce all'esicazione di due tecniche il dapri debridement per l'antibioticato e ritenzione dell'impianto e la revisione in due stadi avanti da apri è una tecnica che andrebbe riservata nel modo in cui noi l'abbiamo vista e pianificata alle infezioni acute postoperatorie ed ematogene entro le quattro settimane dalla comparsa dei sintomi avanti questa tecnica ha l'obiettivo di rimuovere il biofilm batterico che si forma nello spazio intratticolare entro 72 ore dall'insorcienza dei sintomi e dall'infezione avanti da apri prevede l'esame culturale e la conta dei globuli bianchi intraoperatori una sinovietomia guidata dal blu di metilene una termolisi del biofilm eseguita con elettro colatore a gas argol un lavaggio con spugna alla clorexidina delle superfici protesiche un irrigazione abbondante la sostituzione dell'inserto in polietilene ed infine l'applicazione di un drenaggio per 48 ore avanti qui vedete l'infiltrazione di 50 cc di blu di metilene diluito e la sinovietomia guidata dal blu di metilene avanti poiché è stato dimostrato che la corrente elettrica applicata ad una barra di metallo o alla qualsiasi superficie metallica contaminata da staphylococco permette il il distacco di biofilm abbiamo cominciato ad applicare questo argon beam avanti e abbiamo iniziato a utilizzare l'elettrocoagulazione qui possono partire video e abbiamo iniziato a utilizzare l'elettrocoagulatore a gas argono sulle superficie protesiche con una frequenza di 120 watts ed una temperatura sulla superficie protesica di circa 50 gradi questa è la tecnica originaria avanti possiamo andare avanti il laboratorio però abbiamo appurato che una frequenza di 60 vat permette il distacco di una superficie più ampia di biofilm quando applicata sul terreno di cultura agar contaminato da biofilm stafilococcico quindi in tempi recenti abbiamo iniziato a programmare l'elettrocoagulatore ad una frequenza di 60 watts qui vedete la prova in laboratorio sul terreno di cultura avanti eseguiamo poi un accurato lavaggio delle superfici protesiche con una spugna di clorexidina il tutto dura circa 2 3 minuti avanti inseriamo poi le perle di solfato di calcio addizionate di antibiotico le quali hanno un ph fisiologico sono idrofiliche e completamente riassorbibili entro i 30 giorni avanti e soprattutto permettono l'eluzione dell'antibiotico al di sopra della concentrazione minima inibente per 30 giorni avanti mentre sappiamo che l'eluzione di antibiotico dai comuni spazzatori antibioticati è presente a concentrazioni oltre la concentrazione minica inibente solo nelle prime 72 ore dal posizionamento avanti avanti qui vediamo la preparazione delle perle di solfato di calcio nelle quali vengono addizionati un grammo di vancomicina e un grammo di tobra vicina possiamo andare avanti 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 sono pronte all'uso in 15 20 minuti per cui conviene prepararle all'inizio dell'intervento è quello che facciamo di routine avanti qui vedete il posizionamento intraarticolare delle perle antibiotica di calcio solfato avanti la nostra prima esperienza naturalmente sulla protesica di ginocchio a due anni di follow up è stata recentemente pubblicata sul journal of orthopedic surgery abbiamo incluso 10 pazienti tutte infezioni acute prevalentemente da stafilococco oltre il 20 per cento erano meticilino resistente avanti il trattamento d'apri è stato eseguito in media due giorni nella comparsa dei sintomi la terapia antibiotica è stata prolungata per 12 settimane e la risoluzione dei sintomi è stata a due anni è stata rilevata nell'ottanta per cento dei casi avanti la nostra prima esperienza sull'anca è stata un trial internazionale in collaborazione con il dottor pratvi dell'azienda ospedaliera di bergamo della regione lombardia è stata recentemente pubblicata su ip international come vedete 10 infezioni per i protesi che acute stafilococco e streptococco prevalenti avanti il trattamento è stato eseguito a tre giorni di media dalla comparsa dei sintomi in questo caso abbiamo un follow up a un anno e anche in questo caso abbiamo rilevato un tasso di successo dell'ottanta per cento avanti ricordiamoci però quello che ci insegna l'amico craig della valle che l'isolamento del germe è fondamentale per il successo dell'adapri altrimenti il tasso di successo come vedete si limita al 50 per cento dei casi avanti e concludo presentando l'ultimo nostro sforzo sulla prevenzione delle infezioni muscoloscheletriche avanti abbiamo recentemente elaborato insieme ai colleghi della sapienza ringrazio professor ferretti e il professor iorio insieme al dottor prati dell'azienda sanitaria di bergamo un protocollo preventivo internazionale delle infezioni per i protesi che è basato sulla quantificazione e stratificazione del rischio operatorio avanti abbiamo inglobato le linee guida dell'american academy orthopedic surgeons dell'acas dell'international consensus meeting e dell'eca oltre ad una review di circa 175 articoli avanti per cui abbiamo identificato una serie di misure che abbiamo definito preoperatorie intraoperatorie postoperatorie atte a ridurre il rischio di infezione periprotesica avanti siamo partiti dall'applicazione dell'international consensus meeting che vi ho mostrato qualche minuto fa che come già detto consiglio di scaricare sul vostro telefono perché è un tool molto molto utile avanti tale applicazione permette di quantificare il rischio relativo di infezione periprotesica avanti in questo caso vedete il rischio è del circa 12 per cento abbiamo definito la soglia di rischio al 10 per cento 130 punti oltre la quale mettiamo in atto misure di prevenzione preoperatorie peri operatorie e postoperatorie avanti nel preoperatorio consigliamo la profilassia antibiotica cefazzolina più gentamicina in tutti i pazienti ad alto rischio quindi doppio antibiotico e c'è nella letteratura crescente soprattutto negli stati uniti vedete menighini dall'università dell'indiana che consiglia di prolungare la terapia antibiotica doppia per una settimana postoperatoria avanti nell'intro operatorio consigliamo una serie di gesti chirurgici la disinfezione cutanea in due tempi con betadine al 5 per cento e clorizodina al 2 per cento il lavaggio per tre minuti col betadine prima e dopo il posizionamento dell'impianto l'utilizzo di un grammo di acido tranexamico endovenoso e un grammo locale alla fine dell'intervento e alla fine una struttura per piano usando un monofilamento una colla di fibrina e una medicazione avanzata avanti sempre nell'intro operatorio dei pazienti ad alto rischio consigliamo l'utilizzo di perle antibioticate di calcio osservato gentamicina un gran gentamicino 240 mg e un grammo di vancomicina che vengono posizionati nello spazio intraarticolare come già visto in precedenza avanti nel postoperatorio consigliamo di eseguire attentamente tutti i pazienti di seguire attentamente tutti i pazienti a rischio per almeno sei settimane cosa bisogna monitorizzare monitorizzare soprattutto il didimero e la pcr e della letteratura contemporanea è abbastanza definita su questo aspetto sia la il didimero che la pcr si dovrebbero normalizzare a sei settimane dall'intervento avanti abbiamo incluso 27 paziente in un trial internazionale sulla efficacia di questo protocollo preventivo tutti i pazienti ad alto rischio quindi con un rischio di infezione e per il protesico oltre il 15 per cento in accordo con il protocollo dell'applicazione dell'international consensus meeting tutti i primi impianti e revisioni di anca spalla e ginocchio avanti risultati il follow up lo abbiamo un anno abbiamo cominciato poco più di un anno fa abbiamo assenza di infezioni per i protesi in questo questo gruppo di pazienti abbiamo una presenza di un drenaggio assettico dalla ferita cutanea nel 3 per cento dei casi sierologici li abbiamo rilevati elevati e solo in due casi ma erano pazienti asintomatici avanti in conclusione avanti ad oggi la ritenzione dell'impianto infetto è consigliabile solo in caso di infezioni acute parliamo davvero di quattro massimo sei settimane dai sintomi sempre e questo è molto importante con l'isolamento del germe la visualizzazione nella rimozione del biofilm accompagnata da un local delivery di antibiotico più 12 settimane di antibiotico terapia sistemica rappresenta una pedotica di trattamento molto promettente avanti i pazienti ad alto rischio di infezione per i protesi o di infezione muscoloscheletrica in generale dovrebbero essere valutati e trattati seguendo percorsi clinici differenti rispetto alla popolazione sana il rischio di infezione per i protesi che dovrebbe essere nella nostra esperienza quantificato individualmente in modo da applicare contro misure personalizzate e implementare almeno questo è il nostro consiglio un protocollo preventivo può apparire economicamente svantaggioso a breve termine ma estremamente gratificante a lungo termine avanti vi ringrazio per l'attenzione qui avete il mio indirizzo email a stanford e le fotografie di molti ragazzi specializzanti italiani che negli ultimi quasi sei anni sono venuti a trovarmi grazie mille